E' da 30, Marte, Galix, Animals, si vola, Dio Cane, WOOOOO Ave a tutti raga, un abbraccio da Lorghe3 e benvenuti in questo nuovo video Sono qui con JoePic, ma salve, dove porteremo il terzo episodio del si può fare Grazie raga per il vostro supporto e anche per i vostri commenti quindi Dove abbiamo raggiunto più di 100 like Noi quanti ne abbiamo chiesti Joe? Mi sembra 50 Sì 50 raga, 50 e abbiamo addirittura superato di 50 i like che ne abbiamo chiesti Quindi raga, grazie davvero, quindi che faremo ora Joe? Aumenteremo un pochino la pretesa, che dici? Almeno 3000 like Almeno 3000 like, no raga scherziamo Faremo uscire il quarto episodio a 70 like, giusto? Giusto Vi ricordo che dovete essere voi i protagonisti dei miei video su YouTube Se questa serie va avanti è grazie a voi Quindi per farlo basta commentare tutto questo video Con la vostra curiosità che volete sfatare o meno Oppure potete cliccare il link in descrizione Troverete il mio profilo Instagram Dove una volta a settimana metterò un post del si può fare E nulla raga, iniziamo subito Francesco Iodice chiede Si può lanciare una granata di una cesta aperta? Ok Joe ti do a te questo onore, apri la cesta, dai Apri la, ok Devo buttare, vediamo se ce la faccio Aspetta, fermati Ok, vabbè La fisica di questo gioco Fammi un po' abbassare No, rimbalza, hai visto? No, rimbalza bro, hai visto? Ok No, rimbalza Aspetta, da vicino qua Proprio così Sì, sì, vai No, vabbè, rimbalza proprio comunque Rimbalza Vai, 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 vedi? Vedi? No, rimbalza, vedi? Rimbalza, rimbalza 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 Giù una domanda Perché mi hai portato questo rottame? Perché questo Era l'unica che ho trovato Questa è la macchina di leone e cane pifone Era quella che costava di meno, va bene? Giù, il carburante è ridotto, Giù Ma non serve il carburante Vai, 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 mettilo Ok Vabbè Vai Sempre la fisica di questo gioco così Bella Ok, vediamo, vediamo, vediamo Questo è il resto Oddio Oddio Giù l'hai visto Giù l'hai visto Ho visto, ho visto Aspetta Riproviamoci, ok Che cazzo è sta roba, Giù Che cazzo è sta roba Che cavolo è sta roba Che cavolo è sta roba, Giù Ok Vabbè Teoricamente No, non ha senso Che cazzo è Provo io adesso, dai Vai, provaci tu, vai Vado Vai, vai Ok 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 Ok, Giù Quindi Si può fare Brian Filippini chiede Cadendo una certa stessa con la macchina Si può prendere? Che è andata caduta? Oddio Sta arrivando la safe Come farò? Come farò ora Con la macchina è rotta Ti serve un passaggio, baby? Ok Saliamo, dai Vabbè, dai Entra, entra, entra Va benissimo No, ma che cazzo Ok, vediamo, vediamo Oddio Ok, acceleriamo Acceleriamo Adesso Animals Simbolo Dio Cane No 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 Oh, però non abbiamo subito Io ho subito 20 Anche io ho subito 20 Quindi vuol dire che Se hai poca vita Sì Sì Devi dire che ci può fare Aspetta, aspetta, aspetta Vai, vai, vai No, no, no Ok, vai, vai Vai, sì Sì Ok Ok Mi butto un po' prima Secondo me moriamo giù Ti faccio moriremo insieme? Per uso meno Derrapata No Che cazzo stai facendo No, oddio E te cazzo C'è un altro albero lì Dai, non ce la faccio No, no, no Perché cazzo C'è un altro albero? No, oddio 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 Vabbè, un po' di benzina Giusto a tutto Guarda come l'hai inverto Guarda Con un semplice tasto Ma adesso noi perché Avevamo tanta vita Quindi non siamo morti Ma se avessimo avuto Tipo 20 di vita Siamo morti? Sì, sì, sì Sicuramente Si può fare Sono un fan Chiede Si può far rimbalzare l'elicottero Su una bouncer? Ok, raga Ora proveremo con l'aereo Dato che hanno rimossi gli elicotteri E noi siamo più fortunati È giù Vai, dai Provaci Anche se l'aereo è mezzo rotto Provaci Va bene, Giù, vai Vai, vai Vediamo Vediamo Ok Ok Riprovaci, Giù, riprovaci Per gole al dia Vai, riprovaci Adesso provate ad andarci Proprio di faccia contro Vai, vai, vai O giuro Quindi, Giù Si può fare Lord e Giù chiedono Si può fare indossare il pupazzo di neve Al compagno atterrato? Allora, questa curiosità L'abbiamo decisa io e il Lord Perché semplicemente Abbiamo registrato questo sito Dopo tanto tempo In cui non giocavamo E quindi non sapevamo Cosa avessero tolto E alcune domande Non potevamo farle Perché appunto Avevano tolto gli oggetti Si, per esempio La boogie bump E altri oggetti vari Quindi L'elicottero Vabbè Comunque, Giù Ok Ok, allora Vediamo un po' Vediamo un po' Secondo me Vediamo No No Pupazzami Pupazzami Ok, vero? No, aspetta, aspetta Cioè Te l'ho buttato Però per metà Vedi? Sposta le destra No, sono bloccato nel pupazzo Ok, vediamo ora Cioè Sono diventato un pupazzo Aspetta Aspetta Mirami bene No, no Oddio, no No, no Ok Dove vai? Sperser l'acqua Ok, aspetta Vediamo ora Cioè Ti blocchi o sbaglio? Aspetta Fermati ora No, vedi? No, no No, aspetta Aspetta Vediamo ora Aspetta Aspetta Prende un'altra volta No Ok, quindi Lord? E quindi Non ci vuole fare Ok, raga Se abbiamo soddisfatto Le vostre curiosità Lasciate un bel like E iscrivetevi al canale Ricordando di attivare la campanellina Vi ricordo Vi ricordo Anche di commentare Sotto il video Con la vostra curiosità O qui O su Instagram E ripeto Se questo video Arriva a 70 like Faremo uscire il quarto episodio Si può fare? Quindi raga Ci vediamo In un prossimo video